Musica Ma dovute ne sono sempre io e oggi Siamo tornati con una reaction Si ne sto facendo un bel po' di reaction Cioè i capelli che fanno schifo ma dettagli Dicevo ne faccio un po' di reaction ma Perché sono video abbastanza belli secondo me Se fatti bene La reaction che faccio oggi E' una reaction che avevo già fatto un po' di tempo fa Ovvero la reaction ai funny moments e ai fails Su GTA 5 Però questa volta ho scelto la compilation più recente Detto ciò iniziamo subito Con un tipo che si lancia Ok c'è il paracaduto è tutto tranquillo Ok Oh Unexpected Ok cosa deve fare sto tizio Ma è che che Ok Sono troppo avveni Come è caduta quella macchina No vabbè Solo su GTA succede questo Ecco Secondo te muore E invece no Si schianta direttamente Bravo Bellissimo Steso Ok questo è dell'ultimo aggiornamento Non ho capito un cavolo Sempre piccia quello Ma piccia tutti Ogni clip sta picchiando C'è il tipo incastrato nell'erba Ah no Ok questo secondo me fa un volo Olè E' una moto in culonia Proprio esplosa Sono troppo belle ste cose Eh No no Che cosa Che cosa Che cosa è successo No 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 Bravo In tutto ciò cosa sta facendo Come è morto Oh siamo sulla barca Ci sono due tipi che ballano Ma perché succede questo E' online ovviamente E' online ovviamente Ha fatto minchia Figa questa macchina Ok si è autosucidato Ok se funziona così E' volato la macchina Appena ritornato in vita Ok lancia razzi Tutto tranquillo Ma è bello che l'auto ti va contro Finita male Oh siamo sempre qui Blackjack Ok Ma perché Ho visto un tipo Che cadeva dietro Tutto ciò Mentre gioca Blackjack Ok Ma perché Come golf Non sapevo Potuto giocare a golf Come giocare a golf Yes c'era un tipo Che ha ammazzato un altro Tutto normale Entro domani il colpo E niente Sempre paracadute Un altro aereo si schianta O forse è lui che si schianta Bravo Ma che E' rimasto appeso Ma con chi sta parlando Perché c'è un tipo Sport Ma è che Ma è che Ma madonna Bene Come non atterrare Su una casa Madonna E qui finisce male Perché me ne è colpito Dall'antenna Come non detto Ehm Dritto per dritto Best morte dell'anno Ok Elicottero Riuscirà ad atterrare? Certo che si Tutto tranquillo Il problema è che C'è il tipo che vola Anzi Due tipi che volano Cazzo Quella è magia Tu sei un mago Henry Secondo me Si è glitchato il gioco Adesso si che è morto Come muoiono le persone Cosa c'era In quella nave E' glitchata No vabbè E muore Così Adminchiam Ok Credo sia un elicottero Della polizia Bene Tutto tranquillo Solo che L'elicottero è andato a finire Sul tipo E la missione è andata Puttane Ma che Ma che C'è C'è Tu attento a non morire Sei morto Ehm Morto il tipo Buona notata Che sta figata Fighissimo Mi sa che finisce male Si finisce male E non so fra carico L'elicottero Mai prendere un treno Quale un'elicottero Oh siamo sui wins Quindi quelli di prima erano i fails Epicità Vediamo adesso Bene Questo ha tipo schivato non so quante altre la polizia Sì 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 vabbè Che cavolo ho visto Sì Non ci sarei mai riuscito in vita mia Questo è un pro di GTA Anzi questi Vediamo che pro Che pro aggine col camion Proprio a lui Io sarei morto Sei Sei Vabbè Io sono senza parole Un applauso a questi Veramente Bravi Addirittura col jet Altro che 007 Cioè può accompagnare solo Adoro E roba impossibile per me Wow Wow veramente Senza morire poi Senza morire Roba che se l'avrei fatto io Caput Ok Qui il video dura un altro po' Se continuo Durerà tre ore sto video Quindi Direi di chiudere qua Questo video Non so Niente volte l'ho detto Spero che vi sia piaciuto Se siete lasciato like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima